Ma non ero nemmeno in acqua Non mi punire Nausea, lentezza, veleno, ogni cosa mi mette sta roba Ma guarda bastava dirlo Basta dirlo Cosa vi ho fatto di male Mi sono arrivando una quantità di sputi dai lama raga incredibili Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi tornati sulla Ultimate Island E ci eravamo lasciati ragazzi con un'isola ancora in costruzione Ma prima di passare al video ragazzi Mi lasciano un bel pollice in su ed un commento utile per la serie Vi ringrazio per gli infiniti commenti relativi ragazzi al mob spawner Che effettivamente si poteva fare meglio Invito anche a guardare i video che sono usciti durante la settimana Perché sto cercando di prendere appunto un ritmo buono E fare video più o meno tutti i giorni La mucca mi ha quasi ammazzato mentre stavo parlando Ma che stai a scherzare? A mucca! Stai tranquillo eh! Dove mangiare una mela prima di continuare la intro Se no mi rischia di uccidere E niente stavo dicendo che semplicemente Ho iniziato a fare video più o meno ogni giorno Di conseguenza andate a vedere sul canale se vi siete persi qualcosa Perché YouTube ultimamente dice che fa un po' cagare La parte che state per vedere ragazzi dove costruirò la farm eccetera eccetera È una parte che ho già registrato un altro giorno Mentre poi dopo passeremo dopo la farm e tutte le cose Alla registrazione di oggi Tanto probabilmente non ve ne accorgerete o ve lo dirò io Raccogli 20 secchi di latte Mucca Carolina Non ti serve più a niente l'albero? Vabbè te lo faccio crescere allora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12 20 e bam! Ci siamo fatti 14.000 Quindi ci siamo ripagati i secchi di ferro La prossima è 64 di grano e 64 di melone Questa se non sbaglio è inavoidabile Perché non c'è verso di far niente di simile Cioè sì posso comprare i semini di grano I semini di zucca e di anguia e tutte queste cose qua Ma devo aspettare Compriamo un po' di terra Che quella fa sempre comodo Ed iniziamo ad espandere la nostra isola Che peraltro prima che qualcuno di voi la espanda fin troppo Ha un limite Cioè non puoi espanderla quanto vuoi Per farla molto breve Se non sbaglio Dal blocco centrale Che ho saputo che è un blocco di bedrock Lì sotto in mezzo all'isola Dal blocco centrale Partono diciamo Hai un massimo di 50 blocchi per direzione Una cosa molto comoda sicuramente di quest'isola Cioè del fatto che è un'isola E che l'acqua non manca Com'è a differenza delle serie skyblock Che veramente Dovevo veramente andare in chiesa Perché l'acqua era molto difficile da sistemare Non ci sono solamente obiettivi appunto le challenge Ma se scriviamo slash obiettivi Vi appaiono anche degli obiettivi effettivi Ad esempio quello che ho fatto prima Del mining e della terra Mi ha dato vedete una ricompensa Come abbiamo già visto da altre parti Altro significa un oggetto Mentre soldi significa soldi Ovviamente è un orto che può essere No 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 che cazzo fai? Perché? Perché? Perché mi fai questo? No 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 Vedete ragazzi veleno Dolore fisico e tutte le varie cose No non muoio vero? Ma non ero nemmeno in acqua Vedete vedete? Ai 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 ho capito ho capito ho capito Ho capito il mio errore Non mi punire Non mi punire Anche se vado ragazzi Shiftato accanto all'acqua Prendo comunque danno Quindi c'è poco da fare Ragazzi è una cosa veramente incredibile Buttare giù la terra con questo Con questo debuff È veramente divertente Come cosa provatela Abbiamo tutto l'orto in teoria preparato Ok abbiamo fatto anche il sistema Di ritenuta Così almeno posso anche Correre nell'orto E non prendere danno In nessuna maniera Nemmeno se mi impegno In teoria ragazzi Già così dovrebbe andar bene Abbiamo un alberello Abbiamo piazzato delle canne da zucchero Se calo adesso nell'acqua Posso dimenticarmi di vivere Una volta che l'isola è settata Posso farvi vedere Che Cioè posso spiegarvi Come il mob spawner Si poteva fare meglio E ve lo farò vedere direttamente Perché andando ragazzi Nel mio mondo in creative Vi faccio vedere Come si potrebbe fare Anche meglio Ma magari si può fare ancora meglio Un mob spawner Non credo Ci sia bisogno di accennarvi Che per mob spawner Intendo cobblestone generator Vedete che sono pochissimi i cubi Perché c'è Un cubo di lava Un cubo vuoto Un cubo d'acqua E un cubo d'acqua Di conseguenza In quattro cubi Abbiamo fatto un cobblestone generator Mentre nell'altra serie Cioè nella ultimate L'abbiamo fatto Tipo con dieci Consisterebbe nel stare qua Fare uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Vedete Ed è molto efficiente Qua sotto ragazzi C'è dell'acqua messa a croce E poi qua si va a creare appunto La cobblestone Vediamo Si è parecchio più grande Quando avrò una pozione Di water breeding Quindi non prenderò danno dall'acqua Andrò sotto l'isola E creerò appunto Il modo Per Per riuscire a fare Questa Questa cobblestone generator Migliore Perché se adesso io spacco qua In pratica Hai bisogno di più cosa Cosa vuol dire Hai bisogno di più Se io spacco sta cosa Si va a creare comunque L'ossidiana Se non sbaglio Perché sotto non c'è vuoto Ma c'è acqua Vi faccio anche vedere Che anche l'acqua Che io piazzo Mi fa male Vediamo se ho un secchio d'acqua La faccio vedere qua Vedete Mi fa danno anche l'acqua Messa ad cazzum E basta con sto veleno Nausea Lentezza Veleno Ogni cosa Mi mette sta roba Inoltre ripeto La fame va via come il pane Vediamo se nello shop C'è del cibo Qui sta 64 Compra 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 Che vediamo ragazzi Ovviamente Ho scoperto A mie spese Che l'orto Non va avanti Se non si sta online Perché in alcuni server online L'orto va avanti Cioè continua a crescere Mentre in alcuni no E ho scoperto ragazzi Che se facciamo Slash C Una di queste ultime sfide O questa Ma una delle ultime Vi darà Ci darà Anzi Accesso al land E poi nel land Troveremo cose fighe Ovviamente da fare Troveremo materiali Che qua non possiamo comprare O trovare Il livello della tua isola È 5 E sono morto Una volta Hai ancora bisogno Di 42 punti Per raggiungere il livello 6 Guardiamo con dei diamanti E scopriamo ragazzi Slash I Level Il tuo livello è 11 Ok In pratica 2 smeraldi 2 blocchi di smeraldo Mi hanno dato 6 Quindi 3 l'1 circa Vediamo se ragazzi Slash auction Come in tutti i server Ci sono le aste C'è un piccone figo Da comprare Piccone efficienza 4 Tocco di velluto No Questo non ci interessa Affinità all'acqua Vuol dire che io In teoria Non prendo più dono all'acqua Se fammo noi comunque Un piccone di diamante Per velocizzare la scavata Qui perché vogliamo trovare Appunto un po' di diamanti Anche se in realtà Potrei comprarli Ah Mi hanno donato tanti soldi Che adesso ho 13 milioni Raga Stiamo esagerando Sono tanti E volevo anche dire una cosa Perché ho letto adesso Una cosa in chat Pensi di comprarti un VIP qua Non lo so ragazzi Ma so Che dovrebbero esserci I saldi Tipo da ieri O da oggi Ci saranno i saldi Quindi ci sta che io compri un VIP Ma volevo avvisarvi Semplicemente ci saranno i saldi Sul server Della Ultimate Thailand Allora Ho affinità con l'acqua Vediamo se funziona Col cazzo che funziona Bene bene Ok Vabbè Bastava dirlo eh Ma guarda Bastava dirlo Basta dirlo Bene Grazie Abbiamo scoperto Che non funziona così La smettiamo di dondolare Per favore Un lucky blocco Uova per te Possiamo fare una farm di polli Due diamanti insieme Ma chi è 16 uova Allora ci sta che posso Venire fuori A fare un dipollo Allora un attimino Voglio depositare la roba Che non voglio in questo momento Nell'inventario Qua dentro E ho 40 milioni E vorrei usarli Per progredire E la gente qui dirà E' facile E' facile così eh Grazie Complimenti Sputi Merda Tutta la gente Che si fa il culo Per fare Un livello Dell'isola decente Ma il punto è questo Ho la possibilità Perché qualcuno E' stato gentile Ringrazio tutti Vedi mi hanno donato Dei soldi E grazie a queste persone Ho la possibilità Di progredire Velocemente Alcune cose Che sarebbero lente Da fare Durante una registrazione Cioè nel senso Se non dovessi registrare Le farmerei Va bene Cioè nel senso Metterei ore E giorni A farmare una cosa Ma siccome mi hanno donato Tanti soldi Semplicemente Velocizzo Questi passaggi Che voi tra l'altro Non vedreste nemmeno Perché taglierei Detto questo Iniziamo a raccogliere Un po' di ortaggi Che sicuramente ci serviranno E poi Spera tutto Questa qui Produci 32 funghi E 32 funghi marroni Io sinceramente Non so come si fa Leggendo tra i commenti Tra l'altro Per la quale Vi ho anche ripeto Ringraziato Perché appunto Mi aiutate tantissimo Ho scoperto Come funziona La farmie di funghi Ora la faccio qua Poi ragazzi Ovviamente smantellerò tutto Sia chiaro Perché ovviamente Non terrei mai Sta roba così a caso E bisogna lasciarla Al buio Completo Al buio Insomma Va lasciata Mi piazziamo Per Cosa Cosa Cioè ho piazzato Un fungo Un fungo Piazzato Avetevi tutti E mi allevate entrambi Che stai di Cosa vi ho fatto Di male Forse era fin troppa luce Forse Non lo so Questa cosa mi ha un secondino Debilitato Chiesto in chat Se ci sono dei funghi Da vendere Perché appunto Togliendomi Non posso fare la farm Di funghi Quindi ci sono rimasto Di merda Volevo anche fare un annuncio Mentre aspetto Che la gente mi vende i funghi Che la pixel Ragazzi purtroppo Non ci sarà più E qui la gente potrebbe dire Eh vedi L'hai tirata per lungo E poi alla fine L'hai lasciata andare Perché non andava molto In realtà Una sera mi piaceva un casino Ma ho scoperto E' stata cancellata Dal nostro server Quindi in questo momento Tutti i salvataggi Non esistono più Dovrei iniziare Completamente da capo Che potrebbe anche starci Ma non Dovrei un secondino Risistemarmi le idee E i programmi Poi potrei anche farlo Ok Mi hanno dati 11 E 4 Riproviamoci Mi sembra abbastanza buio Adesso sicuramente Più buio di prima Proviamo Ma perché Che poi tutti Oh me li leva tutti Raga Aspetta Aspetta Non so Prima che sia troppo tardi Visto me ne leva due Ogni volta Metto questo qui via L'ultimo Spravvissuto Poverino Che se no Perdo anche quello Provo a farla ancora più buio E vedere cosa succede Per vedere se appunto Era troppo poco buio Oppure semplicemente C'è qualcosa che non va in me Cioè qua giù in fondo È tipo buio 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 Cioè all'ennesima potenza Oh A quanto pare Era poco buio Ok ma posso ancora Piazzarli Ok qua è il limite Dove mi fermerei io Vado a prendere anche l'altro Mitico fungo Ora sono avvissuto E proviamo a piazzare anche l'altro Ora bam fallito Qua Qua Perché Questo si e l'altro no Forse quello rosso no Semplicemente quello rosso non va bene Mi hanno fatto un regalo piuttosto importante Ragazzi È questo piccone E vabbè Molto forte Ovviamente L'oserò per semplicemente scavare qua Forse devo metterlo su una superficie diversa Raga dai Oh Serviva una superficie diversa E ditelo subito Adesso i funghi Hanno un Una casa Vorrei fare anche questo lavoro Perché appunto l'acqua essendo tutta cattiva Non vorrei che mi porti poi Mucca Allora mi chiede 64 pezzi di grano E 64 pezzi di melone In realtà pensavo peggio Ecco 128 fogli E 64 pezzi di pelle Sono già più difficili Però i pezzi di pelle Mi sa che basta andare qua Warp Farm In teoria qua la pelle Dovrebbe darmela In teoria no La mucca mi dà la pelle Pensavo anche in lama In realtà Quindi qua ragazzi Fa piuttosto veloce qua Questa cosa è bellissima raga C'è un uomo albero Mi sta arrivando una quantità di sputi dai lama Raga incredibili Ho tanti sputi Dai che mi servono 64 pelli Stai ferma Bastarda Che lama Puoi oltre a sputare Dare anche poca pelle Sono anche difficili da ammazzare Ci metteremo ragazzi Una vita Terrena Per le canne di bambù A meno che è un bene fattore Non ci faccio comprare Le canne di bambù Cosa che ho fatto È che ragazzi Sarebbe un procedimento Veramente lento Cioè dovrei stare Probabilmente Sei ore Fermo ad aspettare Che le canne di bambù Crescessero La cosa bella del lama La cosa bella del lama è che Soprattutto Senti il rumore E mi fa In continuazione È tutto divertentissimo Tanto potevano fare delle sfide Più o meno coerenti Con i numeri Cioè 64 pezzi di pelle 64 pezzi di carne Chiedimi Non 64 E 180 Il problema Sono tutti sti cazzo di lama Che non si staccano Quindi Ce ne sono tantissimi Soprattutto stai messi apposta Per dare noia Secondo me Dov'è il macellaio Macellaio Cosa che ci ha dato Cuoio Sponer di mucca E spawner di maiale Che mettiamo accanto A questi due spawner Di rannio venenoso Che ci ha regalato Primo il ragazzo Comunque ho visto Ho saputo E ho visto anche Che c'è gente Che fa proprio Gli spawner Quelli rudimentali Quelli che si fanno Sulla serie principale O sulle varie serie skyblock Quelli alti 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 Che tanto alla fine Non occupano spazio Perché appunto Come vi avevo detto C'è uno spazio limitato Di 50 cubi per parte 50 blocchi per parte Di ogni lato dell'isola Tanto lo spawner Fatto verso l'alto Poi si espande in altezza Cioè si espande in alto Quindi non vi ho qua posto Il ragno Sono spawnati dei funghi No Raga Ho trovato all'asta Un blocco Cioè dei blocchi Dei blocchi D'ossa L'ho detto dentro di me Sicuramente Se gli sfai Ti darà delle osso Il bomb meal E ho tutto sto bomb meal Adesso Ho avuto questa Intuizione logica Pensavo fosse molto di più Il grano Che avrei raccolto Da questa super scavata Ma non è tantissimo Che sia ci chiede Questo e questo Slash c Dove bastare anche per questo Esatto 12.000 Ci ha dato Una zappa Verdi diamante Del pane E una common key Allora prendiamo Sto blocco di miscelio E lo mettiamo qua Un fungo rosso E poi Facciamo spawnare Un fungo gigante Esatto E poi Cioè il fungo gigante Dovrebbe essere easy Dovrebbe dare funghi No? Ah ok Infatti da funghi Mi sembrava Ok Con la città ragazzi Si fa un pochino prima Accidente a me Che ho usato Che ho Che ho usato Le mani E' andata così E' andata così E coltivatore di funghi Perché mi ha sbloccato Tiro Cioè E questa Io non l'avevo fatta A quanto per uscene Sempre una in più Comunque puoi tornare indietro E farla quando vuoi Uccidi i mob E raccogli 192 carne e marcia 64 ossa di scherzo 64 stringhe 64 frecce 32 polvere da sparo E 16 occhi di ragno E una persona umana Come cazzo le fa queste robe Scusa Tanto ragazzi Ci ha dato Delle spugne bagnate Delle targhette Ma volevo spiegarvi una cosa Intanto vorrei rompere Queste Questi lucky block bagnati Posso rompere tranquillamente Anche a mano Se non sbaglio Ossidiana Un arco Una spada in diamante Ad esempio Puoi saltare come un coniglio Grazie 3 token 6 token Biscotti della nonna Grazie nonna E ci mettiamo la merda dentro E poi vorrei spiegarvi delle cose Cosa sono le targhette? Le targhette in pratica Funzionano come le nether star Nella skygrid Ovvero Sono praticamente Dei token Cioè Due targhette valgono un token Forse avevo c'è il terreno scorso video Ma non me lo ricordo Con i token Ci si fa gli enchant Dopodiché siamo allo Slash warp enchant Due name tag Google un token Per scambiare in token Bisogna digitare Slash Scambio Token Ah Per effettuare lo scambio Dei avere almeno uno stack Di name tag Finito il sogno Però Prima o poi le avremo O le compreremo Chi lo sa E niente Qua ragazzi Sono tutti gli enchant Che possiamo fare So che ce ne sono tanti fighi E li andremo a leggere insieme Ma Lo faremo Nella prossima puntata Quindi nini Lascia un bel pollice Un commento Iscrivetevi al canale Passare anche le mie social Che sono qua Stati in descrizione Noi ci vediamo Che prossimo video Per questo video è tutto Ciao nini Ciao nini